È stato un Consiglio Comunale piuttosto importante, infuocato, quello di Roseto, perché ci sono state critiche sull'analisi del voto fatto dal centro-sinistra. Lei Rechiudi ha detto, insomma, in qualche maniera avete sbagliato tutto. Beh, ho detto di prendere atto di quello che è il risultato elettorale. A Roseto il Partito Democratico è andato addirittura sotto il 19%, ma non di uno o due punti percentuali. Ha preso il 13%. Io non ho chiesto le dimissioni di nessuno. Ho detto fatevi una riflessione interna. Ragionate se questi risultati non siano frutto della vostra amministrazione di un anno e mezzo, in cui ho assistito soltanto a dei piagnistei che onestamente hanno anche stufato i rosetani. Che cosa accadrà ora? Soprattutto dopo il post pubblicato da alcuni consiglieri del PD, che li ritraeva appunto con il governatore D'Alfonso, ma mancavano due esponenti legati a Tommaso Ginobile, l'ex onorevole, ovvero l'assessore Nicola Petrini e il presidente del Consiglio Teresa Ginobile. Ma io dico che la riconoscenza in politica purtroppo non esiste. E quella foto non è una assoluta dimostrazione. Nel Consiglio Comunale ho citato il film Parenti Serpenti, perché quel selfie in cui c'erano gli attuali amministratori con il presidente della regione francamente l'ho trovato sconveniente e poco opportuna. Ho detto capisco il pragmatismo politico, ma lo sciagallaggio politico francamente no. Quando soprattutto gran parte di loro siedono in Consiglio Comunale, grazie a quella che è la forza elettorale di Tommaso Ginobile. Ci potrebbe essere una vendetta? No, questo non lo so, sono problemi loro. Io penso a ricostruire adesso un centrodestra forte, coeso, che possa mandare a casa presto chi ci amministra. Pronto a scendere in campo da candidato sindaco? Questo poi vedremo successivamente. Quello che mi interessa è creare una coalizione forte che possa rimandare a casa, perché Roseto merita un'amministrazione che si corci le maniche e faccia. Faccia tanto e non pianga soltanto.